L'Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari ha organizzato un'iniziativa per supportare il benessere dei pazienti oncologici attraverso le note di un pianoforte. Vediamo di che cosa si tratta nel servizio di Damiana Dorotea Sgaramella. I suoni della gentilezza si chiama così l'iniziativa organizzata dal servizio di psico-oncologia dell'Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari che rientra tra gli approcci a supporto del benessere del paziente oncologico conosciuti come terapie complementari. L'unità operativa del nosocomio barese durante l'adegenza dei pazienti vuole offrire l'ascolto della musica attraverso i suoni di un pianoforte. In alcuni momenti della giornata la musicoterapia si dedicherà a creare un'atmosfera piacevole con alcuni brani musicali.